Ciao Screen Wakers, buongiorno, buonasera, io sono V e questo è un nuovo video. Tra tutti i film in uscita nel 2023, beh, ce ne sono alcuni che non solo sono particolarmente attesi, ma su cui c'è una certa aspettativa da parte del pubblico, anche e forse soprattutto per l'interesse verso le interpretazioni degli attori di grido che interpretano il ruolo principale in alcune di queste emozionanti pellicole. Andiamo quindi subito a vedere quali sono e quando arrivano. Timothee Chalamet in Wonka. Dopo una nomination all'Oscar nel 2017 per Chiamami Col Tuo Nome, Timothee Chalamet è senza dubbio una delle più grandi stelle in ascesa di Hollywood. Nel 2023 il pubblico vedrà Chalamet in diversi ruoli perché è associato a quelli che potrebbero essere due dei film più attesi dell'anno, vale a dire Wonka e Dune Due. In particolare c'è interesse per la sua imminente interpretazione del giovane Willy Wonka in Wonka e ci si aspetta qualcosa di entusiasmante visto il tipo di ruolo, ma sarà anche inevitabile il confronto tra Chalamet e gli attori che hanno vestito i panni di Wonka prima di lui, ovvero l'iconico Jane Wilder e Johnny Depp. L'uscita di Wonka per il momento è prevista per il 14 dicembre 2023, mentre Dune Due è atteso per il 17 novembre. Margot Robbie in Barbie. Un'altra grande uscita del 2023 è Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie nei panni della protagonista. L'esaltazione che circonda l'imminente uscita di Barbie non si concentra solo sulla regia di Greta Gerwig, ma anche sul ruolo di Margot Robbie grazie al suo record di interpretazioni azzeccate. L'attrice sembrava perfetta per il personaggio anche prima di essere scelta e il teaser trailer del film ha confermato quanto sia effettivamente adatta alla parte. Pertanto molti non vedono davvero l'ora, me compresa, di vedere la versione di Margot Robbie del personaggio nel lungometraggio completo. Barbie arriva in sala il 20 luglio 2023. Hal Bailey nella sirenetta, direttamente dagli studi Disney, una delle principali uscite del 2023 è l'adattamento live action della sirenetta. Hal Bailey è stata scelta nel 2019 per interpretare Ariel in una versione considerata, diciamo, un po' più progressista del classico d'animazione. Ma come mai dal 2019 si è arrivati fino al 2023 per vedere questo film? Beh, ci sono voluti anni per realizzare il live action della sirenetta e questo soprattutto perché il suo programma di produzione originale per il 2020 è stato interrotto dalla pandemia. Dopo tutta questa attesa, dopo aver assistito al suo canto stellare nel teaser trailer rilasciato da poco, è sicuro che il pubblico non veda l'ora di vedere la performance di Bailey nei panni dell'amata Ariel sul grande schermo e potrà farlo dal 24 maggio. Rachel Zegler in Hunger Games, la ballata dell'usignolo e del serpente. Grande ritorno per un altro franchise iconico, ovvero quello di Hunger Games, con Hunger Games, la ballata dell'usignolo e del serpente, che dovrebbe essere in arrivo per novembre 2023. Ambientato più di 50 anni prima degli eventi di Hunger Games, questo prequel verrà interpretato anche da Rachel Zegler nei panni di Lucy Gray Ballard. Il talento canoro e recitativo di Zegler, beh, lo abbiamo già visto nel West Side Story di Spielberg e ci sono pochi dubbi sul fatto che Zegler risplenderà anche in questa occasione, riportando così il pubblico nel mondo di Hunger Games attraverso il suo personaggio. Florence Pugh in Dune 2. Con Dune abbiamo un altro esempio di franchise di fantascienza in ripresa. Come accennato, Dune parte seconda dovrebbe arrivare il 17 novembre di quest'anno. Dopo il successo del primo Dune nel 2021, il secondo capitolo della serie diretta da Denis Villeneuve aggiungerà nuovi attori al suo cast già impressionante. Sono due i nomi che spiccano. Il primo è quello di Florence Pugh, che nel film è confermata per interpretare la principessa Irulan Corrino. Irulan Corrino, siate buoni con la mia pronuncia. Dati i ruoli precedenti di Pugh, e uno l'è addirittura valso la nomination agli Oscar, ovvero piccole donne, la sua interpretazione in Dune ruberà facilmente la scena ai comprimari e noi non vediamo l'ora di vederla. Il secondo nome altisonante che è stato inserito nel cast di Dune 2 è invece quello di Austin Butler. Anche lui nominato agli Oscar, ma per la sua interpretazione acclamata dalla critica come protagonista nell'Elvis di Buzz Lurman. Butler interpreterà il nipote del barone Harkonnen, interpretato da Stellan Skarsgård. Il personaggio di Butler è determinante nella resa dei conti nel materiale originale e anche nella sua trasposizione cinematografica e potrebbe portare Butler sotto i riflettori. E chissà, magari anche di nuovo nel radar delle premiazioni? Cillian Murphy in Oppenheimer. Oppenheimer, del regista Christopher Nolan, potrebbe benissimo essere un successore al botteghino. In uscita il 21 luglio 2023, Oppenheimer vedrà protagonista l'attore irlandese Cillian Murphy, particolarmente noto per la serie Peaky Blinders, in cui la sua interpretazione di Thomas Shelby lo ha portato presto al plauso della critica. In precedenza aveva lavorato con Nolan a Dunkirk nel 2017, quando interpretava un soldato traumatizzato, ma aveva collaborato con lui anche per Inception e nella trilogia del Cavaliere Oscuro, in cui era lo spaventapasseri. La sua imminente interpretazione di J. Robert Oppenheimer nel film biografico Oppenheimer sarà sicuramente il culmine di questa serie di collaborazioni tra il bravissimo attore e l'acclamato regista. Nicolas Cage in Renfield Come parte di quello che sembra già un cast memorabile, Nicolas Cage interpreterà il conte Dracula in Renfield, una commedia horror americana diretta da Chris McKay che seguirà le disavventure di Renfield, interpretato da Nicolas Holt, che cerca di liberarsi della schiavitù del suo capo Dracula. C'è molta curiosità e interesse attorno alla performance di Holt e Cage che danno il volto a personaggi così iconici, ma soprattutto c'è per il taglio e il tono voice che avrà il film. Le storie di Dracula sono state adattate sullo schermo innumerevoli volte e in tutte le salse, quindi sarà interessante vedere come si svolgerà Renfield, ma soprattutto il ruolo di Cage al suo interno. Renfield arriva in sala adesso, il 25 maggio 2023. Joaquin Phoenix in Bo ha paura. Il premio Oscar Joaquin Phoenix reciterà nell'imminente film di Ari Aster, Bo ha paura, in arrivo tra pochissimo il 27 aprile. Il film seguirà Phoenix mentre interpreta il personaggio di Bo, un uomo tormentato dall'ansia attraverso vari periodi della sua vita in questo film horror surreale dello stesso regista di Hereditary e Midsommar. Il ruolo di Phoenix nei panni di Bo ha il potenziale per essere una performance straziante che mette in mostra il talento dell'attore, diventando così forse una performance che il pubblico ricorderà a lungo. Bene Screen Weekers, voi che mi dite? Quali tra questi film attendete con più interesse e di quale fareste tranquillamente a meno? Fatecelo sapere in un commento qui sotto, iscrivetevi ai social e al canale di Screen Week se ancora non l'avete fatto e per altri contenuti di cinema e serie, beh, venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!